Grazie a tutti. E anche ovviamente sulla politica e sul capitolo scuole che si è concluso positivamente questa mattina, almeno per quanto concerne gli insegnanti. Ma andremo nel dettaglio a verificare queste notizie nel corso del nostro appuntamento pomeridiano. Intanto invece diamo un'occhiata alle prime pagine dei nostri quotidiani e vediamo subito l'apertura della stampa che parla di un braccio di ferro sulla casa. Ed è caos sui soldi tolti ai professori, soldi che non saranno più versati dai professori allo Stato. E poi vedremo anche perché. Aliquote, tasi, ancora un rinvio, i docenti dovranno restituire gli aumenti, un rischio scongiurato, riforme, consultazioni parallele di capo del governo e Renzi. Il patto di maggioranza letta va da Napolitano. In taglio alto Strasburgo che scrive all'Italia un diritto dare ai figli il cognome della madre. Il premier dichiara è giusto, ci dobbiamo adeguare. La sentenza della Corte Europea sarà definitiva fra tre mesi. A centropagina la strage di Casella, il figlio ha trovato l'area furtiva, tazzine e un guanto vicino casa. Il ragazzo di nuovo interrogato, gli investigatori parlano di un delitto a più umani. E anche qui abbiamo gli aggiornamenti. È stato catturato il killer che era nient'altro che il compagno della ex domestica che è stata licenziata di recente proprio dalla famiglia in questione, dalla famiglia Lione. E vediamo anche Nature che boccia stamina, seri dubbi sulla sicurezza. Una rivista scientifica si è occupata di questo metodo e non è stato promosso dagli articoli relativi agli approfondimenti, soprattutto sul come la stamina viene applicata sui pazienti. E poi l'anniversario di Noberto Bobbio ai suoi lettori, odio i fanatici, sono nell'età in cui il viaggio è alla fine, non si fanno progetti. L'unica cosa di cui si ha bisogno sono gli affetti. Quindi questo importante anniversario che la stampa celebra ogni anno. Andiamo anche sul messaggero degli insegnanti e questo aumento bloccato. Il Tesoro dichiara che devono essere restituiti prima 150 euro al mese per gli scatti del 2013. Poi dopo le proteste diffuse, soprattutto dopo il contrasto tra i due ministri in questione, ovvero Carrozza e Saccomanni, è arrivato anche questo stop al recupero. Per Renzi non si devono chiedere i soldi indietro, sembra scherzi a parte. Il Ministero invece aveva dichiarato non dipende da noi, è una procedura dovuta. Ora ritroviamo Renzi con il suo job act in questa immagine. Il segretario chiede per ridurre l'IRAP più tasse sui guadagni di borsa, molto più che un documento tecnico. Il job act avrà o tenderà ad avere il valore di un manifesto, sarà anzi il manifesto del renzismo. Questa è l'indiscrezione che riporta quantomeno il messaggero. Poi la casa con la stangata a tasi, il tetto all'aliquota 3 per mille, rischio di rincari per le abitazioni più povere. I costruttori dicono che sostanzialmente con questa tassa torna l'Imu e torna anche maggiorata in termini di costi, soprattutto per i cittadini. Il caso della liberalizzazione della cannabis, la Lega è divisa, arriva a un'apertura invece da Partito Democratico e SEL. Per la legge italiana con la Fini Giovanardi del 2006, la marijuana è una droga come l'eroina e la cocaina. In Portogallo il possesso è legale dal 2001, in Colorado la depenalizzazione è arrivata ora con un referendum popolare. Anche in Italia si parla proprio di questa particolare procedura che potrebbe avere sviluppi importanti. La strage di Caselle, il giovane fa ritrovare la refurtiva, una svolta nel giallo che si è concluso proprio stamane e tra poco tutti i dettagli. Latina oggi apre con la sospensione inaccettabile. A parlare Cusani che non ci sta, impugna al Tar l'atto del prefetto, chiede danni irreparabili. Chiamato in causa anche il Presidente del Consiglio, saltano il suo daizio politico e l'assise di oggi. Ci riferiamo ovviamente alla provincia di Latina, il cui Presidente Armano Cusani ha presentato un ricorso al Tar contro il provvedimento di sospensione che lo ha raggiunto lo scorso 31 ottobre. Cusani contesta la legittimità delle procedure adottate nel caso che lo ha riguardato e la costituzionalità del provvedimento nel suo insieme. Dure le critiche rivolte all'operato del prefetto di Latina, Antonio D'Acunto, e al Presidente del Consiglio, Michele Forte. A centropagina le salme di Erena Tudosa e del figlio, tumulate in Romania, sono state rimpatriate. Vedete anche uno scatto in particolare di questo momento per il fronte sanità. Invece nuova odissea al Goretti, un ospedale al collasso, emergenze a rischio ed ambulanze bloccate. Questa la cronaca di una giornata disastrosa al pronto soccorso. Andiamo avanti con la nostra rassegna, rimaniamo sulle notizie di taglio locale, col messaggero Ostia Litorale. Spari a Torbella, Monaca, 17enne in fin di vita. Anche qui aggiornamenti negativi purtroppo, poiché questo ragazzo è stato dichiarato morto clinicamente. Due colpi alla testa al figlio del boss ed è guerra per lo spaccio. Un ragazzo problematico con una famiglia piena di precedenti penali. Lo stesso 17enne ne aveva. Ovviamente si parla sempre del mondo dello spaccio e della droga nello specifico. Marino a centropagina con la sua giunta ai ferri corti. Il sindaco commissaria anche in ieri e nomina la Cattoi coordinatrice di giunta. Alta tensione con gli assessori per il bilancio e pressing del Partito Democratico per accelerare questo rimpasto. Andiamo avanti, ci fermiamo su Repubblica. Riforme incontro Renzi-Berlusconi. In settimana arriverà il faccia a faccia, ma niente diktat sulla data del voto. Almeno queste sono le opinioni di Matteo Renzi, che non vuole obblighi da parte di Berlusconi. Critiche al governo sulla tassa sulla casa. Non si capisce nulla. Letta al via con i suoi vertici insieme ai leader della maggioranza. E troviamo anche il pasticcio dei soldi tolti ai professori. Uno scontro nel governo sui 150 euro. Scontro che è stato vinto proprio dai professori. Legalizzare la marijuana anche in Italia. Questa è la proposta del Dem Manconi. La Lega si spacca in Lombardia. E altri appoggi inaspettati sono arrivati anche da parte del PD e da SEL. Il Corriere della Sera parla del pasticcio sugli insegnanti. In apertura, tagli in busta paga a 80 mila. Restituiranno scatti non dovuti. E troviamo anche a centropagina questa vignetta di Giovannelli. Il riverente, come sempre, il matador. Vedete praticamente Matteo Renzi nelle vesti di un mattatore con tanto di abito spagnolo che si trova al centro di quest'arena con il toro dell'NCD che lo punta. Un maiale steso proprio grazie al suo fioretto. In primo piano l'incontro con Monti, la diplomazia parallela del leader del Partito Democratico e poi Forza Italia che prepara una Leopoldina per lanciare le europee. Quindi si prepara una sorta di congresso come fu quello che Renzi portò avanti negli scorsi mesi per, diciamo così, catechizzare soprattutto e far conoscere le proprie idee ai membri del partito. La Spagna è sotto shock per le accuse all'infanta. Questo articolo a cura di Andrea Nicastro, una indagine per lei come se fosse una cittadina qualsiasi. Si parla di tanti sprechi, riciclaggio di capitali e frode fiscali. Quindi accuse pesantissime. A piedi pagina, in rosso per un giorno, paghi 50 euro. Abolita la commissione del massimo scoperto, le spese invece restano. Questo per quanto riguarda il capitolo conti correnti. Andiamo infine sul tempo. Il titolo dedicato alla falce e allo spinello. La sinistra va in fumo. Politica da sballo. Torna l'ASP di Selle per liberalizzare la marijuana. Vendola dichiara basta proibizionismo. I fioroni insorge. Il Parlamento non faccia ricette. Troviamo anche una foto notizia a centro pagina. Cristicchi in foibato. Partigiani in guerra. Questo lo spettacolo sugli esuli che fa litigare i vertici di Ampi. Infatti tante le reazioni negative a questo spettacolo di Cristicchi. E troviamo a piedi pagina per chiudere questo piccolo giro di rassegna allo sport. Voglio vincere insieme a Totti le parole di Raja Nainggolan, giocatore diventato parte del progetto Roma. Oggi il primo allenamento. Domenica l'esordio. Infatti non sarà con ogni probabilità convocato per la partita di Coppa Italia di giovedì contro la Sampdoria. Sulla Sponda Lazio invece non c'è ancora uno sponsor. Ecco come Lotito ha buttato via 19 milioni di euro. Si parla dello sponsor sulla maglia. Una problematica che non è sola appartenente soltanto alla Lazio, ma anche la Roma con i malumori di Pallotta. Aveva avuto lo stesso identico problema di cui si era parlato qualche giorno fa. Intanto noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria al rientro. Faremo invece un giro sul web, per cui rimanete con noi.